Allarme rosso nelle campagne del nord barese dopo i violenti nubi fragili delle scorse settimane. A patire le pene peggiori sono i tendoni di uva attaccati da una violenta infezione di peronospora che mette in pericolo l'intero raccolto. Particolarmente grave è la situazione nelle campagne di Bitonto, Mariotto e Palombaio dove i danni derivanti da questo agente patogeno che attacca direttamente foglie e frutti potrebbero costare carissimi ai viticoltori. Da un primo bilancio ad essere in pericolo potrebbe essere il 50% dell'intero raccolto della zona. Il parassita con cui gli agricoltori si confrontano già da diversi anni ha aumentato in maniera esponenziale la sua virulenza dopo gli allagamenti dovuti al maltempo. L'umidità che risale dal terreno crea infatti l'ambiente ideale per la proliferazione della peronospora che in poco tempo aggredisce le piante e rinsecchisce i grappoli. Gli effetti di questa infezione sono devastanti. In alcune zone i danneggiamenti sfiorano il 100% del raccolto con gravi ripercussioni sulla tenuta economica delle aziende produttrici che rischiano il tracollo. Per tentare di effettuare almeno una stima approssimativa dei danni del maltempo l'assessorato all'agricoltura del comune di Bitonto ha istituito una mail ad hoc per raccogliere le segnalazioni che possono essere anche consegnate a mano all'ufficio agricoltura in piazza Marconi. Ma il provvedimento appara agli agricoltori ancora troppo timido. Quello che chiedono i coltivatori diretti è un sostegno immediato al settore, già alle prese con la crisi generalizzata del mercato.